good morning si qui diciamo a mezzogiorno e qui già è pomeriggio mister master maestro o semplicemente david lynch it's april 19 2022 and it's a tuesday green naples are clear clear afternoon very still right now 59 fahrenheit 14 celsius and this means that it's that day really 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 soft like this days in this period si veramente un clima primaverile per quanto concerne il video sui pensieri non so se lo faccio ma nel caso è separato da questo quindi occhio anyway as he and you all just see from the window i don't know if it's visible a quanto riguarda la temperatura credo potrebbe salire ma c'è pomeriggio quindi but the really important thing is that with this atmosfera today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way ovviamente qui poco ore rispetto a voi perché c'è pomeriggio ma comunque fino alla fine della giornata per cui io cambio il saluto finale non saluto più sto pensando cioè non saluterò più alle finestre perché comunque poi se me ne andrò a questa casa un giorno che senso avrà avuto salutare da queste finestre eccetera eccetera tra l'altro il report è neanche più corto se faccio un saluto normale per cui dico solo e voi great day in molto più un saluto davvero a tutti io la farò tra poco il mio stomaco brontola non so se lo sentite non so il vostro si ci vediamo al videotuts nel caso lo faccio domani ciao ciao ciao